Aumentano i contagi, aumentano i contagi in Sicilia, la Sicilia è fra tutte le regioni d'Italia quella che ha il maggior numero di nuovi contagiati, questo ormai da settimane e al tempo stesso è anche la regione nella quale c'è il più alto numero di non vaccinati non vaccinati, 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 vaccinati perché il vaccino è l'unica alternativa rispetto al disastro economico e alla morte dei pochi cari. coloro che sono vaccinati non rischiano la vita, è altissimo il numero di coloro che sono in pericolo di vita in terapia intensiva, di coloro che muovono perché non vaccinati ecco la ragione per la quale credo che questo è il momento della responsabilità di tutti e di ciascuno, la vaccinazione è l'unica alternativa, abbiate cura della salute vostra, dei vostri cari e della condizione economica della vostra realtà.